Negli ultimi giorni sono stati installati tre ulteriori stop su via Carlo Albizzati in prossimità delle vie Carlazzo, Bigarello e padre Corrado Dell'Auro. Grande soddisfazione è stata espressa dal comitato di quartiere Bagnoletto che con l'occasione chiede una maggiore collaborazione ai cittadini. Vi invitiamo a prendere atto della nuova viabilità rispettando tale istituzione di segnaletica che riteniamo fondamentale per limitare l'alta velocità sostenuta su via Carlo Albizzati. Si legge in una nota che prosegue questa opera come la messa in sicurezza dell'incrocio di via Serra di Falco, via Bertole e via Calvatone dimostratasi nel tempo efficace è il risultato delle proposte sollevate nella conferenza sulla sicurezza stradale del 18 giugno 2011.